Gabri controlla assolutamente questa mappa perché la useremo per un video, ok? Va bene, va bene, vado a controllare Ok, ma non urlare per favore, mannaggia Va bene, scusami Non urlare ho detto Vai, ciao ciao Eh, ciao ciao Mamma mia, la deficienza di questo ragazzo, ragazzi Cioè, proprio io a volte devo dire Perché io quando facciamo la prova audio Poi dopo va a finire tutto male Va bene, insomma, lasciamo perdere perché è meglio non sapere Adesso però, sapete cosa faccio? Faccio slash effect, give, invisibility No, instant damage anche no Ho detto invisibility 99999255, ok, perfetto No, troppi 9, troppi ho detto Cosa? Ah Forse perché siamo in una nuova cosa È certo, non in una nuova versione Allora, ragazzi dovete sapere che qua siamo un po' Allora, dovete sapere che ho Detto a Gabri che registravamo appunto Questa serie Una nuova serie comunque in questo mondo Però, questa serie qua in realtà È una nuova serie di video dove noi prenderemo in giro il nostro amico Gabri E ovviamente lui non sa Vedete, io sono invisibile completamente E dove caspito è andato Mannaggia lui questo puzzacchione puzzardo Allora, se io mi tipo da Gabrile Ok, eccolo qua Ah, adesso potrò fargli tutti gli scherzi più belli che potrò fargli No, ma sapete cosa? No, scherzavo Io pensavo magari posso andare in Spectator Invece non posso Perché se vado in Spectator Dopo? Eh, dopo non va bene Aspetta, ci tipiamo di nuovo Se no poi dopo E dopo non gli posso fare gli scherzi tipo questi Non posso dargli colpetti E lui dovrebbe Ma poi lui se n'è andato da questa stanza Ok, si se n'è andato Per fortuna No, perché ho detto che registravo un'altra cosa Da solo Invece lui non sa Che Lo sto trollando un pochino E tipo, cos'è sta roba? Porca puzzarda ragazzi Devono stare attenti Ma in che modo lo controlla? Scusa Cioè, è in survival È un po' sciocchino secondo me Vabbè, può farlo È anche in survival Tanto non è che gli dico niente Però comunque Perché io ho detto che dovevamo registrare Oh, caspito però No, io spero che abbia la cia disattivata Perché mi è venuta Mi è venuto l'advancement Oddio mio Allora ragazzi Deve sapere che l'advancement È tipo Me l'ha dato Perché sono Insomma Sono un po' sciocchino Ho preso lo secchio di lava E quindi sapete com'è Un pochino Ah Csss Ok Silenzio Non potrebbe mai E poi mai scoprire Che chi è stato Come fa a scoprire? A meno che non abbia la chat Cioè, se è la chat È ovvio Al cento per cento Però secondo me Non ce l'ha anche Perché poi Gli ho detto Di stare attento Perché se lo vedevo Che cambiava game mode Era la fine per lui E quindi probabilmente Se l'è tolta da sola Da solo Anzi da solo Non da sola Ma che cosa sto Cioè ragazzi Secondo me sono un po' deficiente Oggi comunque Secondo me può essere Che sia un po' Ma in che modo La sto controllando Scusa questo qua E vedete che però Questa mappa Non è tanto adatto Per fare una roleplay Bella in effetti Quindi fa bene Farebbe bene Alla fine a dirmi Che non va bene Mannaggia Non funzionano queste armi Devo prendere delle Allora Ci sono delle guns Tipo No non ci sono Allora Qualche cosa Perché io ho anche Qualche modo qua Proprio perché ho preparato Questa mappa Come se fosse una roleplay No E Proprio per essere Il più credibile possibile Però qua Cercando in giro Cioè in realtà Ho messo molte mode a caso In realtà Non sapevo cosa stavo facendo In realtà Perché ho detto Vabbè Qualsiasi modo Cioè l'importante è che lui Creda che Stiamo facendo una roleplay Però non ho pensato Magari a mettermi Delle cose più utili Mannaggia a me Perché non ci ho pensato E quindi forse dovremmo usare Le classiche cose di Minecraft Però tranquilli Che non saranno un problema Dato che comunque Minecraft offre Un sacco di possibilità Anche Minecraft Eh Ok vedete vedete Cioè adesso lui Probabilmente si sta insospettendo E starà dicendo Ma come mai Stanno succedendo Tutte queste cose Miticamente strane E beh bella domanda Gabri Anche io vorrei scoprirlo Prima o poi Ma non so perché A volte nei nostri mondi Capitano sempre queste cose E Però Questa volta sono io Che faccio capitare queste cose Per fare lo scherzo a lui Ma spesso Non succede per colpa di qualcuno No 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 Succede perché ci sono mostri Stra O comunque entità strane Nel nostro mondo Pazzurdo E che cos'è sta roba No Che brutto Un tunnel Un tunnel oscuro Fatto di lana Bellissimo Mamma mia Meravigliosamente bello Ok Sapete cosa Io vorrei anche parlare Un attimo con lui Per vedere Che cosa sta facendo Però potrei essere Sospetto Se lo sposto già da ora Perché Forse è meglio aspettare Un attimino No In che modo posso Ah Sapete cosa posso fargli Posso tiparlo qua in alto Allora Se io faccio TP Gabrile Sperò Tu dunis Quindi così Eh L'ho tipato in alto Come se stesse laggando In teoria lui non dovrebbe Magari può pensare Eh Forse ha laggato Vabbè Lasciamo perdere Ma invece Se io ragazzi Ora gli faccio una cosa di questo tipo No Forse lo riusciamo anche a spaventare Cioè E quello in realtà è il mio intento Magari Chissà Pensa che ci sia una nuova entità In questo mondo Che può essere Perché ve l'ho detto Sempre succede Qualcosa di strano Quindi Può essere che quando venga qua Si cagli addosso Tipo Oh mio Denis Ma sono morto Cioè Sono finito in aria Cioè Cos'ha sto mondo Scusa ma tu come hai fatto Ad entrare in questa stanza Gabri Eh Non lo so Infatti ci ho provato E sono riuscito ad entrare Ok Va bene L'importante è che tu ora Parli più basso Ti ho detto Razza di deficiente Allontana quel microfono Evidentemente Eh Sono lontano abbastanza Allora Abbassalo tu Abbassa quel microfono E stai zitto E come faccio Abbassa la voce Ok Va bene Andava bene così Andava bene così Andava bene Ok Perfetto no Perché comunque È importante Dato che stiamo esplorando qua Nella nuova vanilla Che io ho appena aperto Ah sì 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 assolutamente E stiamo esplorando un pochino Quindi tu non puoi venire qua A romperci le palle No dai Gabri te lo richiedo Come è andata nel mondo Come sta andando Vediamo un attimo Ma a parte Della lava che si è messa da sola E poi Sono finito in aria Bene Ok quindi Tutto sommato bene Mi sembra strano però Perché è successa questa cosa Eh pure a me Non lo so Potrebbe essere Che ci sta Non è che c'è magari Una nuova entità In quel mondo Ma pure qua Eh Sai che no In quei mondi In questi mondi qua Succede spesso Che magari Ci siano nuove entità Nuove cose Quindi è meglio Sempre stare attenti Gabri no Tu che dici Gabri Ma sei andato Sì sei andato Ma è deficiente Ma scusate Io ho appena Ma cosa sta facendo Ma sta controllando Ma è un deficiente Cioè sei andato dalla stanza Ma Ma come Io veramente Ragazzi Boh Vabbè adesso guardate Il diverso la lava In faccia Perché se se lo deve Allora se lo merita Ragazzi Deve Deve meritarsi La lava in faccia Perché non è possibile Quel taglio che avete visto L'abbiamo fatto Per colpa sua Perché non riusciva A parlare bene Mannaggia lui Che non sa mai Cioè scusami Una persona dice Quando magari hai una certa età Come Gabri Che ha 8.974 anni circa Magari pensi Ha imparato a parlare Invece Non ha nemmeno imparato a parlare Nemmeno a mantenere Lo stesso identico volume No Non ha imparato E allora Perché dico io Non ha imparato Entro tutti questi anni Ma adesso dove sta Possiamo Possiamo ritiparlo Sapete cosa Possiamo ritiparlo In sopra E potremmo farlo E scusate se a volte Sono Parlo un po' troppo Di queste cose Perché immagino che Magari forse Non ve ne freghi molto O magari sì Chi lo sa Però davvero spesso Dà proprio fastidio Gabri Guardate Perché sta ammazzando Un maiale Poi perché Forse pensa che sia stato Il maiale Che l'ha trasportato E quindi si sta Vendicando Ora Oddio ma è un pazzo Psico Cioè un po' Malato di mente No Scherzo Chiaramente Non Si scherza ragazzi Per carità Non pensate che Sia un malato di mente Non è un malato di mente Assolutamente E i malati di mente Cioè insomma Lasciamo perdere Comunque Adesso l'ho risposto Vediamo un attimo Ora No non riesco Ok Facciamo così Gabri Ciao Eh sì Dennis Cos'è successo Sono caduto di nuovo Poi la lava di nuovo Sì però tu ora parli di una bassa voce Ma come Ok bene Ora era meglio Però ho trovato Delle mele d'oro E delle pozioni di velocità Quindi bene Almeno una cosa utile Esatto Beh dai Ma scusa Come hai fatto a trovare queste Mele d'oro Non lo so Ho trovato una cassa Ha trovato una cassa Boh Mi sembra strano Beh può essere che magari Qualche entità ti abbia donato Qualcosa di strano Perché può capitare Una roleplay Eh ho capito Ma perché ci sono queste entità In questi mondi adesso Scusami Mi sembra strano Gabri No Stai attento perché magari Ti può dare qualcosa di strano No Magari ti può dare Che cosa ne so Un pesce per dire Ma cosa Un pesce da Mandare giù Tutto quanto Oppure Non lo so Qualcosa altro Però per dire no Insomma Devi stare un po' attento Gabri Eh sì Eh E dove è andato Ma che Scusa ma la deficienza Di queste persone Comunque è a livello Cioè Ma che problemi ci sono Vabbè insomma Lasciamola andare Se deve andare poverino Magari Però sapete Però sapete cosa faccio Adesso prenderò Una pozione di veleno No questa è fortuna Noi gli diamo Ma proprio Mai nella vita Dove sta Aspettate un attimo Che lo tipo io Altro che Che poi Peraltro sta in questi posti Molto angusti e strani Ma va Eh Avete visto dove era Cioè più o meno Allora adesso Gli tirerò Questa cosa qua Stupido Ma il veleno Ma cosa sta facendo Ma è impazzito Ma porca miseria Devo tirare in forza Ma cosa Ma sta funzionando No No ragazzi Mi sto innervosendo Porca miseria Non riusciamo a fargli niente Allora Gli donerò Delle Delle spongebob Eh No delle spongebob No delle spugne Ecco E bravo bravo Ma perché sta camminando Cosa sta facendo Dovrebbe controllare Perché sta facendo Ma è deficiente Cioè io ragazzi Non ho proprio Non riesco a A creare un discorso Con questa persona Cioè oltre al fatto Di dire che è un Deficiente Non so cos'altro dire Uh però Questo centro commerciale È molto bello Potremmo farci qualcosa In realtà Sapete Io ho sempre pensato Ad una cosa Che forse potremmo fare In questo Centro commercialoso Però boh magari Chi lo sa Chi lo sa eh Cosa sta facendo Sta mangiando Una Una mela d'oro Ma chi è che gliela date Ste robe No scusa davvero Chi è che gliela date Ma può Non è che si è trasformato In creativa vero Vabbè sapete cosa faccio Adesso Slash Kill Gabrilles Ok molto bene Vediamo cosa aveva Nell'inventario Tante mele d'oro Tante pozioni Ma perché scusami Questa cosa Ok Non ne ho idea ragazzi È proprio strana Come cosa Però sapete cosa facciamo Adesso Adesso Lo spostiamo Da questa parte Gli diciamo che era Tutto uno scherzo Per vedere un attimo La sua reazione Gabri ciao Eh si Dennis Allora Sai qual è il misfatto qua Eh no Quale In che senso Il misfatto è che Era tutto uno scherzo No Le mie povere cose Sì 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 Le tue povere cose Però caro Gabri Sei preso le mie cose Eh Beh può essere Può essere di sì Può essere di no Chi lo sa Però Fatto sta che tu ti sei comportato In modo molto strano Sai Adesso stai fermo Perché adesso devo fare Effect clear Perché altrimenti No Come che devo fare Dai Non mi dire Effect Dunis Forse Dai Per favore Che non posso stare A fare ste robe in video Però ragazzi Give Dunis Cosa devo fare Eh non lo so io Vai a cagare Tu e le tue sole Basta Io Non Bucket Milk Devo cercare il milk Vabbè Però i belli di questi video Sono proprio queste cose No Il bello è della diretta ragazzi Sapete che io non taglio Perché Eh se no Poi è la fine Eh tieniti Da una mela d'oro Due mele d'oro Se vuoi Ma grazie mille Per queste mele d'oro Buonissime Ne farò tesoro Anche se non dovrei dartele Mi hai fatto lo scherzo Eh esatto Infatti sei un po' Sciocchellello Però Grazie mille Gabri E niente Io direi che Ci vediamo No me ne vado via